Musica Ci spostiamo all'aeroporto di Bologna dove sono entrate in funzione nuove macchine per ridurre le attese dei passeggeri. Ci spiega Fulvio Migliaccio. È un brevetto tutto bolognese, quello che consente di ridurre le attese ai varchi di sicurezza dell'aeroporto Marconi. Sono appena entrate in funzione delle nuove macchine progettate dai tecnici dello scalo bolognese in collaborazione con la Logitel di San Lazzaro di Savena in grado di leggere le carte d'imbarco e contemporaneamente calcolare peso e dimensione dei bagagli a mano. I dispositivi Logiscan, così sono stati battezzati, si trovano all'ingresso dei varchi di sicurezza e per ora leggono solo le carte d'imbarco. A regime, entro la fine del 2014, saranno anche in grado di soppesare i bagagli a mano dei passeggeri e gestire le eventuali eccedenze in base ai limiti stabiliti dalle compagnie con cui si vola. Così le attese dovrebbero ridursi di un quarto. Si tratta delle prime macchine al mondo capaci di eseguire questo tipo di lavoro.